E' stato trovato con 600 grammi di droga in casa e per questo è arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il provvedimento è scattato per Orazio Faraci, pregiudicato gelese di 23 anni. Uno strano andirivieni era stato notato dai poliziotti nel corso dei giorni dall'abitazione dell'uomo. Un appartamento di un palazzo delle ferrovie dello Stato risultato poi essere occupato abusivamente. A casa Faraci è stato trovato in camera da letto un panetto da 400 grammi di hashish, un taglierino intriso ancora di sostanza stupefacente e 400 euro probabile provento dell'attività illecita di spaccio. In corridoio un sacchetto nascosto in una portafinestra nel quale sono stati trovati 5 panetti ed un involuto con della mannite, sostanza adatta a tagliare la cocaina.